Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita Oggi ho deciso di registrare un altro video su Project Zomboid Tra l'altro, a dirvi la verità, non ho ancora pubblicato il primo Ma se vedrete questo video è perché qualcuno ha chiesto un proseguo dell'avventura Perché l'altra volta sono morto ma ho scoperto un'altra cosa delle meccaniche del gioco Magari tanti di voi lo sanno già Ma se clicchiamo su Continua possiamo creare un altro personaggio nello stesso save Risultato, cosa è successo? Sono partito in una zona che sono riuscito a riconoscere E quindi sono andato dove ero morto e ho scoperto che la macchina era ancora lì accesa E io ero diventato uno zombie Comunque adesso ho preso un altro personaggio Mi dice 12 zombie perché li ho uccisi ovviamente con l'auto E praticamente adesso ho delle abilità un pochino diverse Perché ho... Allora mi sono ferito superficialmente prima Comunque sono coraggioso e aggraziato Quindi sono silenzioso nel camminare Soprattutto non mi spavento ogni due minuti Avevo fame, ho mangiato Sono ancora abbastanza appesantito Quindi ho intenzione di depositare tutta la roba E quello che mi piacerebbe fare è provare a iniziare a smontare un po' di cose Magari smontare un tavolo e una porta Insomma vedete che mi serve un martello, una sega Insomma E dovrei avere qualcosa del genere E la sega Mi sa che Ce l'avevo Qui Infatti Allora scusate Io adesso la porto lì nel menu principale E non lo posso Sì ce l'ho ma mi manca sempre comunque il martello Quindi insomma adesso devo trovare un contenitore Dove mettere tutta la roba Magari la metto qua direttamente all'entrata Così almeno non la perdiamo Perché sono come dicevo pare che ho appesantito 17 su 12 Quindi direi che depositiamo Eh no ma volevo fare una cosa un po' fatta meglio Intanto sono le 23.50 Non sono ancora eccessivamente stanco Quindi il gioco non mi consente di andare a dormire E io direi che potrei anche pensare di mettere qui In questo scaffalino Mechanic for intermediate Pronto soccorso intermedio Niente spostiamo le cose più pesanti Quindi spostiamo magari Non lo so Il mattare non mi serve Però magari Non lo so Mettiamo Sega I libri Kid di pronto soccorso No che mi serve Le chiavi della macchina no Bottiglia d'acqua Mettiamo l'apri scatole Le pannocchie Le mettiamo in frigo Che finché dura la corrente Andiamo via abbastanza veloci Io ho delle munizioni Vediamo quanto mi alleggerisce Il lasciare tutte le munizioni È abbastanza Direi che Abbastanza La pistola comunque è carica Sembrerebbe Ho sei pacchetti di patatine Qui non me ne faccio assolutamente nulla Dovrei essere quasi leggero La tannica di benzina Tra l'altro è una cosa molto molto importante Che adesso io vado a depositare magari qui Nella cucina Lo metto magari qua sul tavolo Sul tavolino Che Almeno la tannica di benzina Ce l'abbiamo lì E non Magari pesava Sì anche lei pesava Infatti non siamo adesso più così appesantiti Volevo anche andare a dare un'occhiata A quelli che sono Anche l'hai visto di elettronica La mollo lì Molliamo lì un po' di cose Così almeno Ah ecco qua Anche i cavi elettrici I cavi elettrici Sono molto importanti Però Anche piedi di porco Però Al momento Non me ne faccio tanto Quindi le mollo nuovamente qua in sala Nella Nella cosa qui Il martello Il cavo elettrico Che mi serviranno poi in futuro Forse Ma probabilmente morirò prima Due priscatole E poi la scatola di cartucce Che Non me ne faccio assolutamente niente L'idea sarebbe quella Adesso in questo gameplay Di farvi vedere Che cosa Ah infatti adesso sono molto molto leggero Sarebbe quella di Adesso cercare Di passare la giornata Senza morire Quella banderia Però poteva diventare Poteva diventare un bel Vabbè Vado a dormire La casa qua dovrebbe essere Comunque abbastanza sicura Volevo smontare questa porta Volevo provare a vedere Che cosa si riesce a ottenere Dormi E non sono ancora abbastanza stanco Quindi Riposo Riposo Ma io direi che Aspetto un po' Faccio passare un po' il tempo Velocemente Magari Riesco a A diventare stanco Ti sta ennoiando Niente Volevo Niente Allora Possiamo pensare Anche di leggerci Qualche libro Magari Mentre aspettiamo Andiamo giù a vedere Se c'è qualcosa Da leggere Un diario Leggi Non c'è scritto niente No Sono cose Che fanno molto Per Per il gioco di ruolo I server Dove si gioca Leggo le trappole Leggi Sto leggendo Accelero il tempo Magari non mi annoio E leggo Vediamo intanto che cosa Sta migliorando Nel nostro personaggio Vediamo se C'è qualcosina che stiamo migliorando Costruire trappole Ok Sta salendo anche Una musica Abbastanza inquietante Vabbè Intanto aspettiamo Sono già le 4 di mattina E sembrerebbe che io Non ho Proprio sonno Quindi magari Adesso Usciamo E andiamo a fare Quello che dobbiamo fare Vi farò vedere Anche la nuova auto Che ho trovato Da cui appunto Ota ha vasato La benzina Dalla vecchia Alla nuova Ho mollato il cattoccio Della polizia Che è anche Abbastanza danneggiato Mangio Un mezzo sacchetto Di patatine Così non ho più fame Va bene Dai possiamo iniziare Ad andare Sperando di non morire E non di fare L'unplaying Su due episodi Che porto Magari mi bevo anche Un goccio da rubinetto Che finchè c'è acqua Riempio la bottiglia d'acqua E bevo Così ho Ho superito La mia sede Allora vedete Intanto qua c'è acqua Cassavola con acqua Contaminata Può essere usata Ok Dovremmo bollerla Questa è l'auto Ho lasciato delle cose Caricate dietro La cosa che ho scoperto Che premendo V Poi possiamo andare A fare Avendo una tanica In mano Anche il refill Tra l'altro Abbiamo anche qui Una possibilità Di aprire il cofano E vedere lo stato Dei componenti C'è il cofano Appunto che è Rotto Quasi inesistente E niente Adesso io Vorrei farvi vedere Benzina Vedete che ce n'è tanta Vorrei andare Di nuovo A quel magazzino Con più Modo Questa volta Abbiamo scoperto La volta scorsa Che non è facilissimo Raggiungerlo Perché Bisogna passare In mezzo agli alberi Ma questa volta Cerchiamo di andarci piano Senza Strafare Anzi Tra l'altro Dovrebbe essere Più Se Ahia Dovrebbe essere Più semplice Mannaggia Più semplice Passando da qua sotto Perché si fanno Meno alberi Dovremmo arrivare In breve tempo Alla Eccolo lì E che cacchio Sento il rumore anche Di zombie Di sapere che Ci sarà qualche zombie Che non vedo Però il niente Comunque Non si può pensare Di viaggiare In mezzo A sta Al bosco Con un'auto E' assolutamente Da pazzi Infatti Dovei Andarci a piedi O comunque Fare qualcosa Di un po' più Agevole Comunque Vabbè Adesso dovremmo arrivare Credo in breve Infatti Eccoci qua Io l'auto La mollo qui La spengo Così non mi consumo Benzina Iniziamo a dare un'occhiata Cosa c'è qua dentro Che è Un massato di magazzino Io adesso Non ho un'arma Dove avere La pistola Ma il problema Una pistola Che fa casino E quindi tira Tutti gli zombie Abbiamo visto Anche nella volta Scorsa Quindi io prendo Il mattarello Apriamo qui E non c'è dentro Niente Allora Il martello Il martello Mi mancava Quindi lo prendo E dovremmo essere a posto Abbiamo trovato Anche delle parti elettroniche Che mi servono Sì Lo spago Mi serve Va bene Abbiamo un armadietto Con altri martelli Dei chiodi Che io prenderei Onestamente Altri chiodi Del carbone Di cui non so che farmene Ma Tutto fa parole Sicuramente qualcuno di voi Saper dirmi Che cosa ci posso fare E sono già pesante Quindi niente Possiamo andare Probabilmente In sto gioco I chiodi Pesano un'eresia Quindi io vado A depositarli Nella macchina Insieme agli altri E anche le parti elettroniche Pesano No Il martello Pesa 1 Il carbone Pesa 8 Ok E tanto Peso Il carbone Perché il resto È proprio Assolutamente nulla E niente Col martello Dovremmo poter smontare La porta Quindi Molto bene Mi servirebbe Il martello Da demolizione Per poter Distruggere le scale E quindi fare Una sorta di Di Come ho detto Di Entrata con la fune Comunque Qua mi pare Che la volta scorsa Non avevamo trovato zombie Quindi possiamo dare Un'occhiata con calma A quello che può essere Il futuro Campo Da fare Prendo dei semi Di fragola Sega Sega ce l'abbiamo già Abbiamo visto Semi di fragola Prendo altri semi Mangeremo fragole E moriremo Torcia al propano Molto utile La torcia al propano Perché ci consente Di smontare Il frigorifero Il giorno in cui Vogliamo ripararlo Non c'è più che ripararlo Non c'è più che ripararlo Distruggerlo Scatola di chiodi Zero Tare Pesa poco anche lui Quindi continuiamo con Osservando Il peso Dei singoli Cosi Accendino Pesa Zero Uno Pesa niente Continuiamo con Esaminare le casse Altra scatola di chiodi Niente Andiamo avanti Si fa tutto molto 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 interessante Picchetto Sacco Il sacco Non so cosa far Mene Il secchio E' utile Pesa soltanto uno Anche il cavo Non pesa niente Il secchio Così almeno Otteniamo altri Altra acqua Da poter bere Assi Molto importanti Pesano tre Quindi siamo Ai sommessi Abbastanza tirati Semi di patata Patata molto importante Cartucce del fucile Un botto Scatola di chiodi Ancora E va bene Ci sono diversi Di Diversi Magazzini Sulla mappa Del mondo E Non si passa Da qui si si passa E noi ovviamente Siamo nel Magazzino più vicino Perché Vi avevo mostrato Sulla mappa Nello scorso episodio Ci sono dei magazzini Anche doppi Quindi Questo io non capisco Cos'è ogni tanto Mi mette un po' in difficoltà La visuale Perché rende Trasparenti Gli oggetti Quindi non capisco Esattamente che cosa sia Questo posto Ma C'è Ah ok E' una sorta di Non è un separeo Insomma Va bene Dovremmo aver fatto Quanto ci Ci serveva Ovviamente Non possiamo Ancora Coltivare Puoi ferirti Le mani Cioè ci servirebbe Una vanga O qualcosa Cioè per Comunque Iniziare una coltivazione Io so che E' un video Che non vuol dire Assolutamente Nulla Questo Perché Non vi sto mostrando Niente Ma Ho continuato Diciamo Quella che era L'avventura Scorsa Ora All'interno qua Abbiamo una tannica Di benzina Che E' piena Quindi Scarti metallici Anche Niente Io La prendo La tannica di benzina La tannica di benzina La prendo Non me la prende Perché non me la prende Ok me la prende Poi ho letto anche Che se si è Eccessivamente appesantiti Ci si spacca la schiena Allora Aggiungiamo La benzina E poi buttiamo In macchina Tutto quello che è Pesante Adesso stiamo Rifillando Passatemi il termine La benzina Nell'auto Ok E Andiamo nel baule E mettiamo Tutte le cose pesanti Direttamente lì Quindi la tannica Che è quasi vuota Ormai Ci mettiamo All'interno Anche Cos'è che c'è Di pesante Nello zaino Cartucce per fucile Solo un botto Le mettiamo dentro Le bustine Direi di no Torcia al propano Non Torcia al propano Bisogna Caricarla Col gas Immagino Comunque Siamo Abbastanza pieni Possiamo Spostare Magari qualcosa Di pesante Tipo il mattarello Direttamente qui Che ci pesa Possiamo spostare Non ne ho idea Comunque adesso Vi faccio vedere Sto accendo la macchina Abbiamo il pieno Adesso Abbiamo fatto il pieno Quindi Di cose Ne abbiamo Volevo farvi vedere Se riesco a Capire Cerchiamo di andare Con calma Perché ho scoperto Che accelerare Tutto quello che va La macchina E curvare In velocità Non si può fare Perché tiene conto Un minimo Di quello che è La fisica Quindi andiamo piano E vediamo di non morire Per la seconda volta Vedete C'è una casa lì E adesso La andiamo Ad esaminare Però prima ancora Volevo farvi vedere Vedete Io sono lì Questo è il L'auto Che avevo Questo sono io E infatti Per terra C'è ancora Il mio corpo Con la batteria Le bende sporche I beta bloccanti Li prendo Prendo anche le bende adesive Prendo la bottiglia d'acqua Sono veramente pesante Però ho anche fame Quindi vedere Che mi mangio La pizza Che arriva direttamente Dal vecchio corpo Ed ero qua In piedi A zombie Zombie Proprio pieno Allora Le chiavi di quest'auto Ce l'ho Ovviamente adesso È vuota C'è dentro Un bulky talkie Una padella Che Non so che altro Farmene Se avessi L'equipaggiamento Necessario Potrei anche Pensare Di smontare Le componenti interne Quindi Andare a Disinstallare Mi serve Allora Una chiave inglese Conoscere La meccanica base E ora Come ora Smontare Questa Che sembra essere Che cacchio è Il celebratorio carburante Ho il 5% Di riuscita E il 95% Di fallire Questo invece E i freni Sono i freni E le sospensioni I freni e le sospensioni Abbiamo la batteria Che posso andare a togliere Questa la posso fare Direi Item missing No Ho ferite Abbastanza estese A questo punto Vedete che Continua ad oscillare Perché Probabilmente Ho un peso Davvero Davvero Elevatissimo Che sto trasportando Quindi Direi che Buttiamo Roba dentro Immediatamente Tipo la batteria Della Non della macchina Insomma Eccola qua Batteria dell'auto Mi sono ferito È un gioco Veramente Non pesante Ma Tosto Ma tosto Tanto 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 Trappole Beve incipianti L'ho letto Quasi Tutto Siamo Abbastanza Appesantiti Non so più Che cacchio Liberarmi Beta Bloccanti Vabbè Intanto Adesso Siamo feriti Superficialmente Quindi Non c'è da Preoccuparsi Avevo lasciato L'auto Accesa E Torniamo Là Tanto L'auto La lascio Lì Ormai È inutilizzabile Non ho più Nemmeno La batteria La batteria Che cosa Ci serve La batteria Sarà Importantissima In futuro Ah Cazzo L'avevo detto Che andavo Lì Vabbè Allora Facciamo una roba Spostiamo Abbiamo ancora Un po' Di peso Lì Buttiamo Dentro Un po' Di roba Pesante Le bottiglie D'acqua Ad esempio Che credo Pesino Un po' Come usare I generatori Perché le batterie Ci serviranno Per generare L'energia Dicevo Quindi Sarà Molto Importante In futuro In un futuro Prossimo No No Queste pesano Una Cipalipa Quindi Cacciavite Pesa No 012 Allora Che cacchio È che pesa Così tanto Beta bloccanti Le chiavi Il kit Questo Pesa Tanto Eh Vabbè Insomma Vabbè Andiamo a vedere Qui Cosa c'è Intanto Allora Scusate Io Vado a riaprire Qui Ah Mannaggia Avevo lasciato Aperto Ok Allora Buttiamo Dentro Il kit Di pronto Soccorso Patatine Le bende No E Non so Cosa buttare Dentro Io La pistola La pistola Pesa Due Buttiamo Dentro La pistola Oh Adesso Siamo Leggeri E Solo Mi Sfacassate Più I maroni Perché Siamo Leggeri Allora Ma qua Abbiamo L'innaffiatoio Utilissimo Carzuccia Del fucile E sono Di nuovo Pesante Qua abbiamo Un martello Ormai ci serveva Un martello È entrato Un martello Comunque Qua dentro Io Do Merda Si è accesa La televisione Mannaggia 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 Cibo 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 Sta suonando Anche L'allarme Quindi Sta suonando Sta andando La radio Quindi sarebbe Anche il caso Di Spegnerla Spegni Ok Il problema Dell'allarme È che Ci tira Qua tutti Quindi Dobbiamo fare Anche Abbastanza In fretta E capire Che cosa C'è qua Comunque Secondo me Qualcosa interessante Abbiamo già preso Quindi Ci possiamo Anche andare Ok Allora Abbiamo dato Un'occhiata Lì Ce ne andiamo Poi Fortunatamente Qua siamo Nelle campagne Quindi Di zombie Non ce ne sono Tanti Diventerà Molto rischioso Quando saremo Costretti Ad andare In città Perché come Già detto Questo gioco Non ha uno scopo Nel senso Che bisogna Sopravvivere Molto semplicemente Quindi Ovviamente È la storia Che racconta Di come Noi Siamo morti Quindi Viviamocela così Allora Dobbiamo seguire Il campo Fino alla fine E poi Dovremmo essere Quasi arrivati Quindi Forse Riusciamo Anche a farci Eccolo lì Ce l'abbiamo fatta Fantastico Abbiamo trovato Una scorciatoia Per evitare Tutti gli alberi Che prima Andavo Ad affrontare L'auto Non è messa Proprio benissimo Credo Però Ce la possiamo fare Non so mai Se posso passare Sopra questi ceppi Ma sembrerebbe Di sì Un altro trucco Che ho scoperto È che se dormite Della parte del guidatore Adesso a un muro Potete dormire in auto Non so come Ma vabbè Comunque Auto spenta Merd Eh vabbè Allora facciamo una roba Apro Prendo Prendo Come prima cosa Questo Lo buttiamo lì Che prende acqua Poi Il secchio Stessa cosa Il martello Ce l'abbiamo Torcia Al propano Ce l'abbiamo Infatti Se adesso Volessimo andare A smontare Il frigorifero Lo potremmo fare No torcia Ma ci manca Anche la maschera Saldatore Quindi niente da fare Allora ci servirebbe Il martello Per fare quel lavoro Che volevo fare Alla porta Quindi io adesso Voglio smontare Sta porta Dimmi Il cacciavite Il cacciavite Martello E il martello Dov'è Scusa Il martello Ho il cacciavite Cioè non dirmi Che ho Ok Il martello Ok Ce l'ho lì Mi fai sto lavoro O devo selezionare Ok vedete Probabilità di successo 20% Quindi io inizio il lavoro Intanto Il mio stato di forma È tornato ottimale Ok 20% Quindi una possibilità Su 100 Di riuscire a smontare Una porta Cioè io Tu la prendi La tiri su E si sgancia Generalmente Comunque vabbè Proveremo a smontare Tutte le porte Nella casa Adesso Giusto per capire Ma non mi dici niente Ah ok Per terra Abbiamo trovato Delle assi Va bene Mi puoi smontare Anche No vabbè Allora Quale sarà La mia camera Io direi questa Quindi Smontiamo queste porte Disassembla Door Ok Acceleriamo un po' i tempi Così almeno vediamo Se ce la fa Direi che sono Abbastanza una chiavica Però Forse Stiamo salendo un po' D'abilità In carpenteria No No perché abbiamo letto Il libro E Vabbè Stiamo prendendo esperienza Ma se avessimo letto Un libro sulla carpenteria Avremo Avremo la possibilità Di ottenere più esperienza Niente Non ce l'ho fatta Legno di scarto È andata malissimo Voglio smontare il letto Vediamo se il letto Lo posso fare 15% Peggio che peggio Vabbè Intanto lavoriamo Distrutto tutto Abbiamo ottenuto Chiodi Legno di scarto Stiamo demolendo Veramente tutto Posso demolire anche le scale Costruisci Varie Croce di regno E lo tumulo Vabbè Niente No Allora Io direi che Possiamo anche provare A Non lo so Cioè Smontiamo porte Oggi Disassembla Door Smontiamo Dai Smontiamo Che poi è utile Questa cosa Per ottenere materiali Per poter costruire Infatti anche le assi Le assi pesano un botto Ma ci consentiranno Di creare Delle cose Ad esempio Io vorrei andare a vedere A livello di Ah Possiamo fare L'asse forata Allora Prendo la scatola di chiodi Abbiamo trovato Le scatole di chiodi Ce ne sono netto 100 Possiamo andare a fare Beh Con i semi Ce ne sono netto 50 Carpenteria Possiamo fare i ceppi La mazza chiodata Ah Ok Come Negan Possiamo fare La steccatura Se ci facciamo male La stampella Elettrico Smonto Orologio digitale Lavorazione dei metalli Con la torcia del propano Bombola di propano Che non abbiamo Chissà dove la troviamo Ma ovviamente Poi è tutta una logica Perché la bombola di propano Magari la trovi In negozi dedicati Comunque Fuoco d'accampo No E dovremmo vedere Dai adesso Io ho deciso Di fermare qui Tutto Mi direte voi Se dopo aver visto Il primo episodio E questo secondo episodio Che cosa ne pensate Se avete dei suggerimenti Per non morire Fatemi sapere Anche perché Questo video è finito Senza morire Incredibile E niente Attendo i vostri suggerimenti I vostri pareri Su cosa ne pensate Di questo gioco Vissuto in modo Un pochino diverso Rispetto al solito Ragazzi Vi ringrazio E alla prossima E ciao ciao Grazie a tutti